allora buongiorno a tutti di nuovo anche a chi si è appena collegato oggi iniziamo a parlare di react che sarà la libreria che useremo per la maggiore su cui ci concentreremo per la maggior parte del corso quindi sarà un qualcosa che andremo avanti a fare per diverse settimane diversi laboratori tra cui il big lab il primo big lab che inizierà appunto lunedì l'obiettivo di oggi è fare un'introduzione a react iniziare a vedere cosa sono alcuni concetti gli elementi componenti ancora da un punto di vista introduttivo fare un piccolo esempio su react quello che c'è in realtà in queste slide e quindi molto semplice per vedere come si inizia a lavorare come si crea un progetto react e poi verso la fine delle tre ore e spenderemo 5 minuti a parlare del big lab 1 che inizierà lunedì e per cui tra oggi e domani vi pubblicheremo tutta una serie di file tutta una serie di istruzioni su come procedere alcune istruzioni saranno generiche per entrambi valide per entrambi big lab sia questo che durerà appunto quattro settimane a partire da lunedì sia il secondo che sarà subito dopo il primo ovviamente durerà anche lui quattro settimane vi ricordo che big lab sono accoltativi da consegnare e sono da fare in gruppo e da consegnare in gruppo e se consegnati verranno valutati tra zero e un punto ciascun big lab per gruppo e questi due punti eventuali in più saranno poi da sommare al voto dell'esame se non consegnate big lab invece semplicemente non si somma niente al punto dell'esame al voto dell'esame e arriverete fino a 30 con l'esame senza big lab ma questo gli dedichiamo 5 minuti in fondo giusto per prepararvi al ai testi che pubblicheremo ma parliamo di react allora come dicevo inizieremo a parlare oggi di react e andremo avanti diverse settimane a parlare di react almeno quattro tanto quanto il primo big lab e poi subito dopo react parleremo di altro ma parleremo di altro che sì in particolare un pochino della parte server side ma che comunque si interfaccerà con react e comunicherà con react e quindi da questo momento in poi il nostro front end del sito quello che finora abbiamo fatto con un po di html un po di javascript sarà totalmente rimpiazzato da react e che appunto proseguiremo il corso su questo argomento principalmente tutto quello che abbiamo visto finora ovviamente serve come idea quanto meno è che serva come base per quello che andremo a fare in react come vi dicevo il dom ovviamente viene manipolato da react che introduce anche un altro concetto relativo al dom ma comunque alla fine il browser capisce html css javascript e react tutto quello che fa deve comunque poi tradurlo in quella html css javascript che che abbiamo visto finora quindi quelli ci servono come basi per capire alcune cose come funzionano e anche perché alcuni di quei concetti appunto ce li ritroviamo allora che cos'è react react è uno al momento poi queste cose sono sempre variabili ma al momento è uno dei più popolari di una librerie una delle librerie più popolari per realizzare front end di applicazioni web quindi rimpiazza diciamo così quello che stavamo iniziando a fare in html css javascript e qui sulle slide è scritto framework e react in realtà è una libreria e sapete la differenza tra framework o una delle differenze tra framework e libreria sì no forse allora in linea generale perché ci sono diverse diverse interpretazioni diciamo così nel linguaggio comune si usa in maniera abbastanza interscambiabile libreria e framework da un certo punto di vista una libreria è un qualcosa che è focalizzata a svolgere un compito e un compito in un certo modo quindi djs che abbiamo visto è una libreria perché perché gestisce le date punto gestisce solo le date quindi un qualcosa che non includiamo nel nostro codice per svolgere un compito con maniera in maniera specifica poi come noi integriamo le date nel nostro codice non è una cosa che la libreria ci vincola o ci obbliga a fare lui ci dà una serie di funzionalità per gestire le date non ci dice qual è il flusso logico per trattare le date adesso è dato un esempio banale ma ci dice se volete trattare le date avete tutte queste funzionalità che potete usare o potete non usare poi che cosa ci fate con le date qual è il flusso logico eccetera non è un problema mio un framework dall'altra parte è tipicamente una collezione di librerie che non solo mette insieme diverse librerie quindi fa diverse cose non ha solo un obiettivo specifico tipo gestire le date ma mette insieme diverse librerie anche diversi produttori diciamo così diversi creatori e dall'altra parte specifica o cerca di specificare anche come dovete usare questo framework questo insieme di librerie per svolgere un determinato compito quindi da anche un certo senso lo stile di programmazione da anche la logica dovete fare questo per questo per questo perché se non fate le cose in quest'ordine nulla funziona quindi imposta anche un certo stile di programmazione allora react formalmente è una libreria per costruire interfacce grafiche qui nelle slide l'abbiamo chiamato framework perché in realtà react non si usa praticamente mai da sola come libreria ma si usa insieme ad altre librerie si usa in un certo modo che non è scritto dentro la libreria però è rafforzato dalla documentazione della libreria e si porta dietro una serie di concetti una serie di cose che vedremo che funzionano in un certo modo e per e per fare le cose bisogna per forza seguire quel certo modo quindi da questo punto di vista pur essendo una libreria react e noi alla fine la useremo come un framework perché non usiamo solo la libreria nuda e cruda come useremmo quella per le date ma usiamo anche la filosofia ovviamente e che si è detto react usiamo anche i concetti di programmazione le tecniche di programmazione nell'architettura che react rinforza non obbliga ma rinforza ovviamente e quindi per esempio il concetto di redax lo vedremo e lo useremo ed è un concetto non è un qualcosa di codice che però serve per fare applicazioni react in un certo modo seguendo diciamo così lo stile di react e d'altra parte useremo tutta una serie di librerie che sono molto vicino a react per esempio react router che serve per fare del routing nel front end che è una libreria diversa da react però 99 volte su 100 si usano insieme quindi in questo senso noi lo considereremo un framework quindi non so quindi una collezione di librerie che hanno uno scopo ci indicano anche come e qual è l'architettura dell'applicazione e quali sono le tecniche di programmazione che utilizziamo per programmare con react ovviamente tutto questo boh fine della differenza tra librerie e framework e tutto questo su react ovviamente si costruisce su quello che abbiamo già visto di javascript e perché usiamo un framework perché usiamo react in questo caso ma i motivi sono due al di là del fatto che in questo momento è molto popolare molto utilizzato quindi anche nel mondo del lavoro avere una conoscenza buona di react è sicuramente un vantaggio per per voi perché usiamo un framework come react o una libreria se volete come react beh perché ci dà una serie di vantaggi essenzialmente ci semplifica l'ambiente del browser e ci semplifica anche i metodi di sviluppo ovviamente per i metodi di sviluppo se noi seguiamo quello che react insegna in un certo senso quindi se seguiamo la filosofia di react che non è detto che sia simile o uguale ad altre filosofie perché ci semplifica l'ambiente del browser perché ci dà dei metodi per manipolare il dom uniformi rispetto a quelli che abbiamo visto quindi più uniformi rispetto a quelli che abbiamo visto e ci dà invece di avere elementi html che poi dobbiamo copiare incollare se dobbiamo creare molteplici volte ci dà un concetto di componenti che sono più ad alto livello rispetto agli elementi html che abbiamo fatto e che si possono poi importare esportare utilizzare molteplici volte senza dover incollare e copiare lo stessa parte di codice html separati in diverse occasioni e anche un processamento automatico degli eventi degli aggiornamenti che sono nel browser quindi tutti gli event tender eccetera qui sono un pochino più semplificati rispetto a quello che faremo a mano in javascript manipolando il dom poi ovviamente sotto il cofano anche react va a fare esattamente quegli event tender va a fare esattamente quella manipolazione del dom che voi fareste a mano quindi non fa niente che voi non potreste fare senza react ma lo fa in maniera che cerca di semplificare se si rispetta una certa certa pattern che react da semplificare la vita allo sviluppatore quindi dare più potenza in un certo senso allo sviluppatore più possibilità allo sviluppatore per ottenere le stesse cose che a mano e magari richiederebbero più tempo o più più sforzo inoltre react ha veramente tanti sempre di più plugin che possono estendere ulteriormente la libreria come questo react router che vi citavo prima che spesso vengono o usati sempre o quasi sempre insieme a react oppure magari qualcosa di più più di nicchia che però se si vuole si possono utilizzare proprio perché un framework recente un framework nuovo ed è un framework molto utilizzato nella comunità degli sviluppatori web e se non lo sapete react e vabbè ha un sito ovviamente react è stato creato da facebook e dalla parte engineering di facebook e viene utilizzato in facebook quindi la front end di facebook se siete familiari al social network è fatto in react e quindi viene renderizzato in react probabilmente anche instagram non sono sicuro e sicuramente facebook sì in quanto se lo sono creato per risolvere loro un problema e poi l'hanno anche reso disponibile come appunto la libreria open source per o come libreria adesso credo open source dato che c'è anche un link a github non ne sono sicurissimo in questo momento però come libreria gratis quantomeno per essere utilizzata da chiunque voglia e ovviamente ha un sito una libreria che un sito che potete visitare per la documentazione e sia per vedere nella documentazione dei concetti principali se volete approfondire o leggerli anche per conto vostro e anche un dei tutorial passo passo su come fare le cose soprattutto quelle semplici ma anche alcune di quelle complesse noi copriremo nel corso ovviamente se i concetti principali sia molti no degli esempi molti dei concetti che loro fanno nel tutorial ovviamente e se volete poi ci sono anche due libri su react in particolare l'abbiamo già citati forse a inizio corso e questo è un full stack si chiama full stack react è abbastanza recente come libro si può prendere da questo indirizzo esiste anche la versione non cartacea e molte slide sono basate su questo libro e poi c'è anche un handbook molto più leggero molto più snello di questo sempre fa Flavio Copes che abbiamo già citato all'inizio che si chiama the react handbook e serve appunto ed è un handbook quindi meno strutturato rispetto al libro che entra in molti dettagli e questo è gratuito e si può scaricare previa registrazione sul sito di Flavio Copes se volete non sono ovviamente libri obbligatori per il corso in quanto in teoria quello che facciamo durante le lezioni durante i laboratori è più che sufficiente per sostenere, per capire, apprezzare react e sostenere con successo l'esame ma soprattutto per capire e utilizzare react bene ma se volete sono riferimenti aggiuntivi che potete trovare che potete prendere o prendere gratuitamente o prendere in altro modo come questo full stack react per consultazione futura voi scrivete pure, vedo che qualcuno scrive in chat scrivete pure, io intanto dico ancora questa cosa che abbiamo già anche questo visto useremo non per oggi ma sicuramente dalla prossima volta in poi anche questi tool di sviluppo per il browser, per React perché dato che React ovviamente nel browser scrive manipola il DOM quindi scrive HTML, scrive JavaScript eccetera ma noi vi diamo solo il risultato finale con questi tool degli sviluppatori che sono questo React Developer Tool disponibile sia per Chrome che per Firefox installatene una delle due funzionano praticamente in maniera analoga e vi permette anche di, come dire, vedere quello che fa React questi link ci sono già nelle slide introduttive del corso qui sono solo riportati quindi installatene uno dei due nel vostro browser perché può essere utile per debuggare per verificare cosa succede nel browser esattamente come usavamo i tool di sviluppo normali quando facevamo, lavoravamo con JavaScript e HTML domanda in chat che interessa a Facebook rendere pubblico qualcosa come React? beh, secondo me secondo me, se la domanda è esatta non lo so ma queste aziende, la risposta ovviamente esatta posso non saperla ma queste aziende e anche Google ovviamente hanno sia una parte, diciamo così, commerciale che è quella che immagino conoscete di più sia una parte di ricerca e di sviluppo e quindi hanno anche, per esempio, partecipano alle conferenze scientifiche per esempio partecipano, organizzano anche conferenze per sviluppatori Google, per esempio, organizzano Google I.O. ma anche Facebook ha la sua conferenza per sviluppatori sia per persone che sviluppano per Facebook quindi per estensioni da far funzionare all'interno di Facebook all'interno di Instagram o per WhatsApp insomma, i loro prodotti ma anche appunto lavorano insieme alla comunità e quindi loro hanno risolto un problema che avevano e hanno rilasciato questo framework questo framework che questa libreria questa libreria che che appunto è poi diventata molto utilizzata nel tempo esiste anche la versione nativa quindi potete usare React per creare applicazioni native una versione di React per creare applicazioni native mobile che si chiama React Native noi useremo React DOM perché è quella per il browser e quindi credo che lo facciano sia un pochino per contribuire a questa comunità di cui comunque fanno parte e sia un pochino, se volete, per pubblicità perché alla fine se i sviluppatori usano React React è fatto da Facebook ovviamente si passa la parola in un certo senso si parla di questo e se volete forse anche per collegarmi alla domanda che c'è dopo forse anche per fornire alternative ad altri prodotti ad altri framework o librerie che sono realizzati da altri come Angular che è realizzata da Google quindi anche loro anche Google adesso Google non lo usa non ha iniziato a usarlo nel suo come prodotto come nei suoi prodotti inizialmente l'ha rilasciato Angular e poi probabilmente lo usa e a differenza invece di Facebook che ha rilasciato un qualcosa che ha prima iniziato a utilizzare quindi credo siano questi i motivi ma così secondo me quali sono le principali differenze tra React e Angular? beh, oggigiorno non ci sono concettualmente tantissime differenze quindi rispetto ad Angular non so più che versione siano arrivati 12 non lo so più perché ogni anno esce una versione nuova ecco, rispetto ad Angular moderno diciamo così non Angular 1 non c'è una grandissima differenza concettuale nel senso che entrambi per esempio usano il Virtual DOM entrambi hanno questo concetto di componenti ci sono differenze più stilistiche magari di scelte architetturali su come fare certe cose ma in linea generale diciamo non c'è una enorme differenza sono due framework alternativi non interscambiabili cioè interscambiabili ma bisogna imparare a utilizzare un framework oppure l'altro alcuni concetti si possono portare tra React e Angular altri concetti invece scusate, non altri concetti metodi di programmazione come si scrivono le cose come funzionano certe cose invece sono più specifiche rispetto a quello che fa il singolo framework o la singola libreria prego allora Angular perché non lo sapesse è un altro framework molto popolare rispetto molto popolare popolare forse un pochino meno adesso di React o un pochino più vecchio come nascita di React ed è anche quello un framework per realizzare applicazioni web di cui come dicevo alcuni concetti sono ovviamente simili per esempio il concetto di componente c'è sia in React che in Angular ogni giorno il concetto di virtual DOM in parte anche poi altre cose invece altri principi di design o altri metodi specifici di programmazione sono invece ovviamente specifici delle scelte che hanno fatto quelle di Facebook o quelle di Google quando hanno creato Angular o hanno creato appunto React noi in questo momento React è un pochino più popolare un pochino più utilizzato di Angular che ha comunque una buona base una base considerevole di utenti e quindi dovendo sceglierne uno abbiamo scelto alla fine React e non Angular ma non è detto che no questo essendo un framework essendo anche basato su quello che succede nel mondo non è detto che nei secoli dei secoli continueremo a fare React per sempre diciamo che per quest'anno magari probabilmente anche per l'anno prossimo è molto probabile che l'anno prossimo molto probabilmente continueremo a fare React poi se React muore perché Facebook decide di non supportarlo più e di cancellare tutto Facebook fallisce e non lo so ovviamente ci adatteremo e prenderemo qualcos'altro ma per ora parliamo di React allora React è una libreria che è dichiarativa principalmente dichiarativa quindi con React non si manipola mai esplicitamente il DOM quindi tutte quelle operazioni di aggiunta che abbiamo fatto di rimozione del DOM che abbiamo fatto a mano React non lo fa mai esplicitamente e non definisce mai esplicitamente l'ordine delle operazioni ma quello che si fa con React è dato che è un framework per il front-end è definire come ogni componente quindi come ogni diciamo così parte della pagina in questo momento di una pagina web andrà a renderizzarsi andrà ad essere visualizzato sullo schermo quindi una pagina avremo tanti componenti e in React noi dichiariamo quali sono questi componenti dichiariamo come i componenti sono fatti quindi se anche questi componenti hanno della logica si passano delle informazioni l'uno con l'altro e poi quello che fare e poi definiamo i componenti dove sono nella pagina e diciamo come questi componenti si renderizzeranno quindi come verranno visualizzati nel browser e principalmente quello che faremo andremo a definire i componenti e a decidere al netto delle loro logiche interne come andranno a visualizzarsi come andranno a renderizzarsi questi sono i concetti chiave di React che vedremo con calma nelle diverse settimane e React ha un approccio funzionale quindi lo stesso approccio funzionale che abbiamo visto in JavaScript e React segue questo approccio quindi le funzioni sono immutabili e producono sempre la stessa operazione ogni volta che vengono devono produrre la stessa operazione ogni volta che vengono eseguite eccetera c'è poi il concetto di componente quindi queste porzioni di pagina per ora chiamiamole così che ci permettono di definire come una pagina apparirà cosa ci sarà in una pagina e React come concetto principale ha il fatto che a ogni singolo cambiamento che avviene nella pagina ogni click a ogni qualunque cosa che mi possa venire in mente rirenderizza tutto quindi se una pagina ha 50 componenti uno ha un cambiamento React prova a rirenderire non prova React recalcola il rirendering di tutta la pagina di tutti i 50 componenti e questo rirendering non avviene però sul DOM sul DOM che conosciamo ma avviene su un ulteriore layer che React aggiunge che è il virtual DOM quindi un DOM virtuale che si pone tra quello che facciamo noi in React che componenti e il DOM reale che il browser capisce riesce a visualizzare quindi c'è un livello intermedio che è questo virtual DOM e React poi aggiunge diciamo eredita tutti gli eventi che abbiamo visto in HTML nel browser quindi tutto quello che potremmo fare con l'event listener i click la sottomissione del form eccetera e li fa diventare sintetici e ne aggiunge altri di più alto livello che si possono utilizzare e c'è un controllo sullo stato dell'applicazione in React quindi come vi dicevo React è funzionale quindi è impotente ogni funzione ogni volta che si manipola qualcosa in React con questo fragmento con questa parte dell'interfaccia grafica parte della pagina è un qualcosa che è impotente ed immutabile come ogni ogni metodo funzionale che abbiamo visto in JavaScript per esempio prima e ecco noi troveremo poi nel seguito delle slide tante volte props e intendiamo properties quindi qualcosa che passiamo da un componente all'altro o da appunto una funzione all'altro quindi generalmente React dice che un fragmento di interfaccia grafica è definito come una funzione che ha due parametri lo stato che può essere anche opzionale e delle proprietà che a loro volta possono essere opzionali tipicamente molti componenti non hanno bisogno di gestire uno stato interno ma hanno solo delle proprietà che vengono passate una proprietà il colore del bottone se abbiamo un componente con bottone per esempio e quindi la proprietà potrebbe essere il colore di questo bottone o qualcos'altro che ovviamente viene passato per sapere e appunto come renderizzare correttamente il bottone perché ricordiamo React è dichiarativo e quello che cerchiamo di fare per la maggior parte delle volte è definire come qualcosa viene renderizzato React poi sfrutta l'immutabilità degli oggetti un po' per facilità di programmazione e un po' anche per efficienza del processo in quanto noi creiamo un oggetto e l'oggetto in React è immutabile così nessuno può toccarlo nessuno può manipolarlo una volta che è stato creato e le props per esempio sono immutabili di conseguenza quindi sono solo in lettura dal componente che gestisce le proprietà il componente bottone diciamo così che gestisce le proprietà e addirittura il componente stato non è direttamente modificabile può essere letto ma non è direttamente modificabile per modificarlo e sullo stato dedicheremo diverso tempo la prossima volta credo la prossima settimana per lo stato quello stato che è dentro ogni componente addirittura può essere cambiato solo attraverso delle chiamate dei metodi speciali specifici che andremo a fare mentre le props possono essere passate poi lette dal componente quindi prima di arrivare al componente possono essere appunto inizializzate per essere passate lo stato non è direttamente manipolabile può essere solo letto e se uno vuole aggiungere qualcosa allo stato perché se no come facciamo a leggerlo si può fare solo attraverso delle chiamate speciali e come appunto nella programmazione funzionale le funzioni sono pure quindi non hanno side effects e tutte le volte che vengono reeseguite ottengono lo stesso dobbiamo ottenere lo stesso risultato l'impotenza che nel nostro caso vuol dire che il re-rendering di un componente porterà sempre allo stesso risultato quindi se noi facciamo il rendering di un bottone che sarà rosso e poi facciamo il re-rendering di quel bottone dobbiamo ottenere di nuovo un bottone se partiamo dalle stesse condizioni che sarà rosso e non importa quante volte facciamo il re-rendering ogni volta che ci sono certe condizioni certe props per esempio otterremo se dobbiamo ottenere sempre lo stesso bottone nello stesso posto con le stesse caratteristiche con le stesse funzionalità quindi al non mutare delle condizioni ovviamente il re-rendering dello stesso componente deve essere sempre uguale portare sempre lo stesso risultato come vi dicevo l'applicazione un'applicazione react un'applicazione web fatta con react è fatta da componenti e ogni volta che cambia qualcosa ogni volta che c'è una proprietà che cambia quindi il colore dicevamo prima invece di rosso lo passiamo verde ogni volta che una proprietà cambia l'intera applicazione viene re-renderizzata da zero e come viene renderizzata ogni componente che fa parte dell'applicazione sa come disegnarsi perché è così che funziona abbiamo detto i componenti sanno come disegnarsi sulla pagina come fare il rendering quindi ogni componente si ricostruirà tutte le volte ogni volta che cambia qualcosa da zero e questo ridisegnarsi potrebbe voler dire che magari ci sono delle piccole variazioni abbiamo cambiato una proprietà e invece di rosso passiamo il colore verde allora quel componente se diciamo è un bottone si renderizzerà in verde a quel punto perché abbiamo cambiato il colore quindi in maniera differente rispetto a prima oppure magari con variazioni minori magari variazioni che non ci accorgiamo in maniera neanche estetica magari è cambiato il testo o magari è cambiato qualche funzionalità l'evento di click che per esempio possiamo associare a un bottone se parliamo sempre dell'esempio del bottone ora voi potete immaginare che dato che tutte le volte che c'è un cambiamento di una proprietà di un qualunque componente l'intera applicazione viene rirenderizzata da zero e per alcune cose ovviamente non cambierà niente se cambiamo il colore del bottone non è che la tabella che sta a fianco ha dei cambiamenti significativi tipicamente però tutta l'applicazione viene renderizzata ovviamente voi quello che potreste chiedervi è tutto molto bello viene rirenderizzato tutto perché per il concetto di funzionale per cui tutto tanto deve ritornare deve comportarsi sempre allo stesso modo però poteste chiedervi ma visto che tutte le volte che cambiamo il colore un bottone o cambiamo la scritta dentro un bottone tutto viene renderizzato da capo se la nostra applicazione ha 50 componenti le performance di questa cosa come sono? diventerebbe tutto lentissimo diventerebbe tutto ingestibile perché ogni volta che cambiamo una virgola ovviamente andiamo a perdere un sacco di tempo per renderizzare tutto e questo sarebbe vero in javascript è normale se noi manipolassimo direttamente il DOM quindi se voi immaginate come abbiamo fatto finora di manipolare direttamente il DOM quindi ogni volta che modifichiamo un qualcosa nel DOM andiamo a ricreare da zero l'intera pagina ovviamente questo è un'operazione costosa perché bisogna non solo aggiornare l'interfaccia ma anche ricalcolare tutti gli out della pagina questo richiederebbe anche tempo lo vedremmo anche questa differenza nel browser in React questa differenza non la vediamo nel browser questa spesa di tempo non la vediamo di tempo anche computazionale non capita nel browser perché appunto React usa questo DOM virtuale questo livello di DOM virtuale che è ottimizzato è molto veloce da aggiornare questo DOM virtuale e è un DOM anche potenziato nel senso che corregge alcune anomalie alcune asimmetrie dovute al DOM perché il DOM è evoluto nel tempo e quindi per rimanere anche retrocompatibile ha continuato a mantenere certe certe caratteristiche che magari non si usano più ma che sono ancora presenti e invece il DOM virtuale è semplicemente iniziato da zero quindi partendo da zero può anche permettersi di fare le cose in maniera migliore in maniera più efficiente e anche togliere alcuni problemi se volete che ha il DOM reale il virtual DOM inoltre gestisce i suoi eventi quelli che abbiamo chiamato sintetici molti dei quali sono esattamente gli eventi che avremmo nel DOM altri sono eventi di React del virtual DOM che poi ovviamente vengono propagati nel DOM reale a un certo punto ma è capace intanto da gestire una serie di eventi che sono magari più potenti degli eventi che potremmo avere nel DOM e cosa capita per le performance che quando i componenti fanno il rendering il loro rendering il loro rendering in realtà avviene sul virtual DOM non nel DOM reale e quello che fa React è la libreria quindi è calcolare la differenza tra il DOM che c'era prima del rendering e il nuovo virtual DOM quindi il virtual DOM con i componenti che si sono rirenderizzati e a quel punto React non va a richiedere al DOM di riaggiornare tutto anche quello che non è stato modificato ma va a chiedere al DOM di modificare solo ed esclusivamente le cose che sono state modificate e va a chiederlo non per ogni piccola singola modifica ma va a chiederlo in batch quindi ogni tanto è un ogni tanto ovviamente frequente ogni tanto che non disturba la navigazione nell'applicazione web da parte dell'utente ma lo fa in automatico React e prende le modifiche che ci sono nel DOM dopo il rendering dell'intera nel virtual DOM dopo il rendering dell'intera applicazione e dice ok aggiorna e dice al DOM ok aggiorna queste due cose perché sono queste le cose che sono state modificate e questo ovviamente lo fa in automatico non dobbiamo preoccuparci noi del fatto che lo faccia se non vogliamo forzare in qualche momento l'aggiornamento ma tipicamente lo fa in maniera appunto automatica quindi noi scriviamo il componente il componente si rirenderizza tutta l'applicazione tutti i componenti in realtà si rirenderizzano sul virtual DOM e poi React si preoccupa di tanto in tanto di prendere le modifiche fatte nel virtual DOM e di vedere se bisogna dire al DOM di cambiare qualcosa e dice poi al DOM esattamente cosa cambiare quindi non avviene poi un rirendering totale sull'intero DOM ma solo su una porzione di quello in base alla differenza proprio perché abbiamo questo doppio livello abbiamo il DOM che è quello gestito da browser e abbiamo il virtual DOM che è gestito da React quindi possiamo permetterci di usarlo come cuscinetto anche prima di vedere le modifiche quindi noi non vediamo il virtual DOM ma il vecchio DOM no noi vediamo il virtual DOM chi siamo noi bisogna definire chi siamo noi noi sviluppatori manipoliamo il virtual DOM noi utenti del browser vediamo il DOM esattamente sì l'utente del browser il browser come dicevo prima il browser capisce HTML JavaScript e CSS e funziona col DOM punto React quello che fa è per lo sviluppatore semplificare la scrittura diciamo semplificare la scrittura di HTML CSS e JavaScript e le loro manipolazioni del DOM quindi noi sviluppatori lavoriamo col virtual DOM e non scriviamo il classico HTML CSS e JavaScript ma il browser non può far altro che capire HTML CSS e JavaScript e il DOM e tutti i suoi concetti quindi è quello alla fine quello che vedete nel browser quello che l'utente del browser vede è un'applicazione web come se fosse fatta non con React ma a mano dove questo a mano è tutto un qualcosa che si preoccupa React di di tradurre da quello che scrivete in React a quello che il browser può capire quindi alla fine si arriva sempre nel DOM ma noi lavoriamo invece con il virtual DOM che è più potente e più è più semplice e questo è quello che vi ho raccontato a voce no? C'è un cambiamento c'è un cambiamento per esempio qui in questo pallino rosso questo è un cambiamento di stato e questo cambiamento di stato e dopo questo cambiamento di stato quindi si costruisce un nuovo virtual nuovo albero del virtual DOM a quel punto questo cambiamento di stato si andava a fare la differenza col DOM vero e proprio quindi questo è il virtual DOM questo è il DOM normale quindi questo è l'albero normale del DOM c'è un cambiamento di stato React si accorge che c'è un cambiamento di stato fa il re-rendering di tutto nel DOM non succede niente a quel punto React fa la differenza tra il virtual DOM e il DOM e questo cambiamento di stato diciamo che ha comportato non solo un cambiamento in questo nodo un div un bottone ma anche un cambiamento nel suo figlio perché ovviamente questo è un figlio di questo nodo quindi questo è il bottone e questo è il testo all'interno del bottone per esempio quindi qui c'è stato un cambiamento di stato ha provocato anche ovviamente un cambiamento nel figlio e fa la differenza rispetto al DOM qual è la differenza rispetto al DOM? beh che questi due nodi sono diversi ma mentre fa questa differenza vedete che il DOM continua a non cambiare a quel punto calcola una React calcola l'insieme di cambiamenti in questo caso questi due quindi non solo il cambiamento di stato che in un primo momento ha cambiato solo un nodo ma anche quello subito successivo che probabilmente è stata una conseguenza di questo cambiamento di stato che magari è capitato un millisecondo dopo però comunque è capitato dopo e vedete che nel DOM ancora nulla è cambiato a questo punto calcola l'insieme di cambiamenti tra il DOM e il virtual DOM e quindi questi due nodi sono cambiati li mette in una coda che ovviamente svuota in maniera abbastanza rapida questo React e quando è ora di svuotare la coda dice fa l'effettivo re-rendering nel DOM e dice al DOM di cambiare non tutto l'albero anche se lui si è re-renderizzato interamente ma di cambiare solo questi due nodi in questo modo vedete che ogni piccolo cambiamento non viene subito propagato al DOM ma viene propagato solo a un certo punto quando la situazione è relativamente stabile e tutto questo ovviamente se volete leggere qui c'è una descrizione qui probabilmente c'è un'altra ci sono poi i dettagli di come React funziona internamente ma appunto a noi non interessano fino a un certo punto e a noi quello che interessa è che questi cambiamenti li fa quindi non preoccupiamoci di cambiare ma che a un certo punto il cambiamento viene riversato sul DOM e a noi serve saperlo perché magari ci saranno momenti in cui vorremmo che invece questo nodo venisse subito messo sul DOM e quindi se non capita sappiamo che segue questo percorso quindi questo è per le performance e per fare le cose in maniera ottimale perché le modifiche al virtual DOM dato che il virtual DOM è nuovo ed ottimizzato sono facili sono poco costose perché è fatto in maniera perché è fatto bene diciamo fatto in una certa in un certo modo per sopportare questo tipo di funzionalità mentre le modifiche al DOM sarebbero molto più costose quindi se noi invece del virtual DOM andassimo a manipolare il DOM avremmo molto più peso molto più costo sul browser rispetto a questa rispetto a questa scelta quindi non solo il virtual DOM ci semplifica la vita con i programmatori ma anche questo ottimizzazioni ulteriori nella manipolazione rispetto al DOM effettivo del browser e ovviamente questa è solo l'introduzione poi vedremo batteremo la test diciamo così sul virtual DOM nelle prossime settimane ma ovviamente sappiamo adesso che c'è questo livello che funziona ogni tanto si aggiorna il DOM reale del browser e come dicevo prima React ha una serie di eventi che implementa e che gestisce ha un suo come implementa il virtual DOM che è separato dal DOM implementa anche un suo sistema di eventi che è separato dal sistema di eventi gli event ender che abbiamo visto fino a poco tempo fa da quello tradizionale tra quello del browser in particolare c'è un singolo event ender alla radice di ogni componente e questo serve a due cose una a normalizzare gli eventi tra i browser magari ci sono browser che possono avere alcuni eventi altri browser che hanno eventi ovviamente diversi qualcuno browser un po' più nuovo qualche browser un po' più vecchio quindi riesce a gestire anche questi aspetti normalizzandoli e poi li separa dal DOM e quindi di nuovo lavora sul virtual DOM e quando c'è bisogno poi propaga l'evento sul DOM e con le modifiche quindi intercetta sicuramente l'evento del DOM ma lo gestisce nel virtual DOM lo gestisce in una maniera diversa con degli eventi sintetici e poi produce il risultato indietro manipolando il DOM come abbiamo appena visto nella slide precedente ecco come del codice React appare ecco il codice React appare così c'è un qualcosa in questo caso React DOM che ha un metodo dichiarativo quindi noi dichiariamo come appaiono le cose che ha un metodo che si chiama render che serve appunto per renderizzare qualcosa e poi ha i due parametri e uno che si chiama elemento e l'altro che dice dove renderizzare questo questo nodo questo elemento in questo caso vedete e sul DOM questo è un esempio ovviamente ci sarà a un certo punto da agganciarsi al DOM perché quando parte l'applicazione React noi dovremmo dire come prima cosa ok tutto questo che capiterà sarà da agganciare a un certo elemento un certo elemento che sarà definito nel DOM perché il punto di partenza sarà comunque il DOM e la nostra pagina HTML che sarà una pagina vuota se ricordate da architetture web single page application sarà una pagina vuota o quasi vuota in cui andremo noi ad aggiungere e manipolare tutte le volte il contenuto che ci servirà ma avremo una sola pagina quindi quello che dice questa istruzione è renderizzami qualcosa a partire da questo elemento nel DOM che in questo caso è un elemento che ha come ID facciamo finta è un div che ha come ID root ecco questo è javascript ovviamente perché ha dei punti virgola document get element by ID e javascript notate qualcosa di strano in questa porzione di codice javascript ci dovrebbe essere una cosa che se questo è javascript dovrebbe dirvi ma come è possibile ok sì adesso non ho capito ma anche il cancelletto cosa vuol dire se puoi dire me lo federico ma tutti gli altri sì quella cosa strana è questo c'è del codice html direttamente non come stringa o i tag senza virgolette non come stringa c'è del codice html buttato nel javascript ok ah il cancelletto qui magari volevi dire dove c'era root ma qui non ci vuole perché get element non è un query selector comunque sì c'è del codice c'è qualcosa che appare come codice html direttamente nel senza virgolette senza niente ecco è giusto nel senso che sembra sbagliato ma in realtà è giusto perché questo sembra codice html ma non è codice html è un linguaggio di react che noi useremo principalmente per definire gli elementi infatti vedete lo chiamiamo react element che assomiglia all'html in questo caso è identico all'html ma che in realtà è un linguaggio che react permette di utilizzare che si chiama jsx che assomiglia all'html che è fatto con the tag perché deriva da xml ma questo è un diciamo così un dialetto chiamiamolo così di javascript quindi è lecito utilizzarlo in questo modo perché non è html e poi oggi vedremo anche jsx in particolare quindi è vero sembra un errore ma in realtà non lo è è sinteticamente corretto ovviamente react tra le tante cose che fa farà anche prendere questo linguaggio questo modulo questa riga definita in jsx e la tradurrà tra le varie cose che fa in javascript normale in modo che il browser possa poi utilizzarle e capire cosa fare qui c'è un esempio un pochino più più complesso in cui vabbè cambia il get element by d invece di essere root my app ma il codice html coincide con lo state di cui parlavamo prima no il codice html è quello che vogliamo renderizzare è l'elemento l'elemento deriva da un componente che in questo caso è un componente che è identico all'html del dob il componente potrebbe avere uno stato al suo interno per esempio sapere se non lo so nel caso di un bottone lo stato potrebbe essere se il bottone è cliccato o non è cliccato o se deve renderizzarsi in lingua italiana o in lingua inglese per esempio allora questo come vi dicevo è sintassi jsx che sembra html ma non lo è ed è comodo perché è comodo scrivere per noi perché sembra html quindi ci permette di usare un linguaggio dichiarativo ma questo è se noi lo dovessimo scrivere in javascript sarebbe equivalente di scrivere questo quindi useremmo react.dom.div per creare il div e poi diremmo che il div come primo parametro ha un'espressione javascript un oggetto javascript che ha come d test quindi questo parametro qui e poi dentro il div creeremmo un h1 react.dom.h1 che non ha nessuna proprietà vedete ma che ha in questo caso essendo un h1 ha un figlio che è il testo e poi faremo la stessa cosa per il p questo a sua volta chiama un metodo che si chiama react.createelement che effettivamente andrà a creare sul DOM dopo tutte le manipolazioni necessarie all'interno di MyApp il codice HTML che sarà in questo caso identico a questo però questi vi ripeto non è codice HTML è questo JSX che assomiglia in maniera tremenda al codice HTML in questo caso è identico e ovviamente ci semplifica a noi sviluppatori ricordate l'obiettivo di usare React è semplificarci la vita e allora invece di scrivere una cosa così o di andare a fare manipolazioni del DOM creando un elemento con create element di document eccetera eccetera a mano ci basta scrivere quello che vogliamo passando gli parametri che vogliamo passare e poi si preoccupa React di tradurre questo in questo e poi di tradurre questo in quello che il browser riesce a nell'HTML corrispondente da poi renderizzare nel browser quindi introduciamo React che ci nasconde un sacco di cose che prima che fino alla settimana scorsa facevamo a mano ora questa traduzione giusto per completare quello che c'è scritto nella slide si chiama transpilling questa traduzione questi sono ovviamente equivalenti questo è solo più più comodo da scrivere perché di nuovo ci ricorda l'HTML e non dobbiamo ricordarci che punto div poi il parametro non il parametro passare null eccetera e questi sono equivalenti questo si chiama transpilling ed è fatto da questa traduzione ed è fatto da una libreria che React importa e che React dipende che si chiama Babel che è una libreria che permette di fare il transpilling non solo tra JSX e JavaScript normale ma permette anche di fare quando è correttamente configurata al di fuori di React la traduzione da magari qualcosa di JavaScript moderno e qualcosa di JavaScript che non è supportato da certi browser vecchi per esempio le classi in JavaScript sono un concetto abbastanza moderno magari non tutti i browser lo supportano e se uno sviluppatore lo sa può usare Babel per creare partendo da uno suo codice JavaScript moderno scritto nel 2021 un'applicazione web scritta in JavaScript che funzioni anche in un browser che non è aggiornato da cinque anni o in un browser limitato perché ovviamente non hanno implementato all'interno del browser tutte le funzionalità di JavaScript e quindi questo Babel è una libreria che si può sia estendere ma si può utilizzare che permette di fare queste traduzioni tra qualcosa e il JavaScript che un browser riesce a capire sia in questo caso all'interno di React ma si può usare anche al di fuori di React noi non lo useremo mai esplicitamente perché React dipende da Babel e quindi si preoccupa React di utilizzare Babel per fare questo tipo di operazioni e noi tipicamente scriveremo codice JSX perché come dicevo è un pochino più snello da scrivere un pochino più facile ed è anche un po' meno insomma ci c'è subito l'idea di che cosa vogliamo poi visualizzare rispetto a scrivere questo questi come vi dicevo questo è un elemento React quindi una descrizione di come un qualcosa deve apparire ma questi elementi questo div questo h1 questo p non sono il div il p e l'h1 di HTML che abbiamo visto questo div h1 e il p sono dei componenti React che alla fine renderizzeranno il div di HTML l'h1 di HTML e il p di HTML tradizionali ma questi sono componenti che appunto descrivono come va utilizzata questa porzione di codice quindi cosa fa il div cosa fa l'h1 cosa fa il p con le sue eventuali proprietà con il suo stato se ci fosse e così via quindi questi sono scritti come HTML questo è un elemento React sono scritti come HTML ma sono componenti di React componenti che React ci dà gratis React prende tutto quello che c'è in HTML e ce lo fornisce come componente quindi div h1 p main aside table ul tutto quello a per i link tutto quello che viene in mente viene fornito da React come componenti ma ovviamente noi possiamo anche definire i nostri componenti e quindi invece di questo div usare un nostro componente che potremmo per esempio facciamo finta di aver creato un componente che si chiama button e qui potremmo mettere un componente che si chiama button e scriverlo come come fosse un pezzo di HTML però è un componente che abbiamo creato noi io ho messo la B maiuscola proprio per indicare qualcosa che abbiamo creato noi quindi questi non è HTML è un componente che rappresenta la parte di HTML lo stessa cosa in HTML React inoltre forza e qui ritorniamo un pochino in quello stato un certo modo di lavorare in questo caso un flusso di dati unidirezionale che è questo allora tutto parte dalla vista quindi quello che appare nel browser all'utente quello che succede nella vista genererà delle azioni clicco un bottone scrivo un campo di testo faccio qualcosa nella vista modifico la vista e questa vista genera delle azioni queste azioni che sono triggerate dalla vista possono aggiornare a loro volta lo stato per esempio come dicevamo prima la lingua in cui un bottone viene renderizzato quindi io ho un bottone clicco su bottone se sono sull'italiano lo voglio fare diventare inglese se sono il testo del bottone voglio farlo diventare inglese e se è inglese voglio farlo diventare italiano facciamo finta che questo sia nello stato quindi nella vista clicco sul bottone qua viene intercettata l'azione di click questa azione di click per la logica del componente del componente bottone aggiorna lo stato ma in altri casi non è necessario ma in questo esempio aggiorna lo stato è lo stato a quel punto va a modificare la vista quindi ho un bottone con scritto ciao che è nella vista quando io clicco sul bottone questa sarebbe una mano quando clicco sul bottone viene generata l'azione per esempio di click e viene manipolato lo stato in questo caso e invece di ciao nel bottone ci sarà scritto hi o hello quindi la versione per esempio inglese di ciao e questo stato quindi questo cambiamento di stato che è un cambiamento di lingua il fatto che da ciao diventa hi e viceversa aggiorna la vista se io riclicco qui ci sarà di nuovo l'azione che andrà di nuovo nello stato che dato che è inglese rifarà comparire di nuovo ciao e aggiornerà la vista questo è l'unico flusso che esiste in react si parte dalla vista si passa da un'azione e l'azione aggiorna lo stato e lo stato aggiorna la vista non è possibile partire dallo stato non è possibile partire dall'azione non è possibile dallo stato generare un'azione e aggiornare la vista ma l'unico modo per aggiornare una vista è aggiornare lo stato e come si aggiornano lo stato generando un'azione a partire dalla vista Questo è una cosa, un pattern che ci obbliga a seguire React, perché è il modo in cui React funziona, e quindi dobbiamo partire dalla vista, partiamo dall'azione che l'utente fa nel browser, per generare appunto delle azioni che vanno a modificare degli eventi, per esempio, che vanno a modificare l'eventuale stato del componente, che dopo il rendering, dopo tutto quello che abbiamo detto capitare, aggiornerà a sua volta la vista. Questo è l'unico flusso possibile in React. Tutto questo flusso possibile ha un corollario, che a volte ci piace poco, ma è così, che ci piace poco il contenuto del corollario, non è fatto che esista, e il corollario dice che lo stato è sempre posseduto da un componente. Quindi un componente ha il suo stato, che è diverso eventualmente dallo stato di un altro componente. E ogni informazione, qualunque cosa che viene influenzata da questo stato, può solo cambiare il componente e i suoi figli. Quindi se io ho il bottone con il suo stato, quello può influenzare il bottone, può influenzare eventuali figli, che il bottone non ha se non consideriamo il testo, ma non può influenzare la tabella che sta a fianco. Quindi il cambiamento dello stato viene solo visto all'interno del componente dei suoi figli. Quindi cambiare lo stato su un componente può cambiare il componente stesso, può cambiare i figli, ma non può cambiare nient'altro all'interno dell'applicazione. Non può cambiare i genitori di questo componente. Quindi il cambiamento dello stato del figlio non cambia, non può cambiare lo stato del genitore, non può cambiare i cugini, non può cambiare nient'altro all'interno dell'applicazione. Solo se stesso e i suoi figli. E per questa ragione, dato che lo stato è dentro un componente e può solo essere visto dai figli e propagarsi i suoi figli, per questa ragione lo stato è spesso mosso in alto, sull'albero dei componenti, in modo che possa essere condiviso al bisogno da tutti i componenti che ne hanno bisogno. Quindi se ne abbiamo, come prima, il bottone che è dentro questo bottone. che è dentro l'equivalente di un div, che è dentro, per esempio, un altro div, e che, per esempio, questo div ha un bottone qui. Facciamo un altro esempio. E quando cambiamo lo stato, se abbiamo qui dentro lo stato, se è qui dentro, lui avrà il suo stato e il cambiamento di questo stato impatterà solo il bottone B. Questo chiamiamolo A. E di conseguenza anche A avrà il suo stato che sarà totalmente indipendente da B. Quindi il cambiamento dello stato di B impatterà B e i suoi figli e il cambiamento di stato di A impatterà A e i suoi figli. Il cambiamento di stato di DIV impatterà DIV e tutti i suoi figli. Il cambiamento di stato di quest'altro DIV viceversa, di conseguenza. Quindi se noi vogliamo avere, invece di avere lo stato di B o di A e gestirlo qui, ma vogliamo avere, per esempio, uno stato comune tra tutto, noi non andiamo a definire, non andremo a definire lo stato solo di B o lo stato solo di A. Qui non definiremo lo stato per niente. Quello che capita spesso in pratica. Non andremo a definire lo stato esplicitamente in B, un suo stato in B o un suo stato in A. Ma quello che faremo è definire lo stato nel padre che ci interessa di più per condividere lo stato. Quindi per esempio lo potremmo definire in questo DIV qui. In questo DIV qui, scusate. Questo no. Perché potremmo definirlo qui? Perché magari ci serve che lo stato di questo impatti lo stato di questo. E allora qual è il padre comune tra A e B e questo DIV? Allora potremmo dire, ok, non voglio definire lo stato in B, non voglio definire uno stato in A, ma definisco uno stato nel contentore che deve condividere lo stato, in modo che B possa leggere, dato che è un figlio, possa leggere questo stato, ma anche A possa leggere questo stato. e quindi se c'è un cambiamento in questo stato, tutti i suoi figli possono tenermi in considerazione. Questo è un qualcosa che, ovviamente ogni componente potrebbe avere il suo stato che è indipendente dagli altri, ma in pratica una cosa che si fa è si prende lo stato e lo si definisce solo al livello in cui ci serve. Quindi se ci serve uno stato condiviso tra diversi figli, lo si definisce a livello del padre. Si potrebbe, per estremizzare, anche definirlo a livello dell'intera pagina, dell'intera applicazione, quindi uno stato unico che contenga tutto, ma quello che risolverebbe tutti i problemi, ma quello forse è una scorciatoia un po' troppo estrema, perché a quel punto tutto avrebbe accesso all'unico stato che permette di fare tutto. Quindi va bene spostarlo in alto, ma spostiamolo ai componenti che hanno bisogno di accedere a quello specifico stato. Per esempio, sul cambio di lingua, magari se cambiamo la lingua di questo bottone, vogliamo anche cambiare la lingua di questo, o di altri elementi, quindi ha senso metterlo a livello del padre, lo stato su quale lingua sta girando l'applicazione. E poi, ripeto, nelle prossime settimane vedremo come manipolare questo stato, come si scrive, come si legge, perché appunto è uno dei concetti, lo stato più complicati, diciamo, di React. Un po' per quel flusso unidirezionale, un po' perché può essere letto da tutti, ma può essere scritto solo con alcuni metodi speciali, eccetera. E come vi dicevo, questo è di nuovo un esempio, ma ormai dovremmo averlo capito, tutto in una pagina, in React, è un componente. Anche questi tag HTML semplici, come div, e come in HTML, gli elementi HTML possono essere messi uno dentro l'altro, anche i componenti possono essere messi uno dentro l'altro. Quindi potrei avere questo componente qui, che all'interno ha due componenti, about e links. Poi ho quest'altro componente qui, che all'interno ha questo componente, questo componente e questo componente, che magari sono istanze diverse nello stesso componente, e poi ho ancora questo componente qui, ancora più grosso, che contiene tutto il resto. E quel metodo che abbiamo visto prima, React DOM Render, costruisce questi componenti e li aggancia al container DOM, nel DOM vero, dall'interno della pagina, per renderizzarli in maniera coerente, con il virtual DOM e con tutto quello che abbiamo visto. Giusto per ricordarci, questo React, possiamo vederlo prima, questo è quello che aggancia uno o più componenti, in questo caso uno solo, ma potrebbe essere un componente che si chiama container, un componente che si chiama container, che contiene tutta la pagina, quindi questo componente saprà come renderizzare se stesso, perché è dichiarativo, e quindi saprà che all'interno ci sono i blog post, ci sono la scheda about, eccetera, e questo super componente generale, questo container, verrà poi inserito nel DOM alla posizione root, all'elemento con il root. Noi per ora abbiamo visto dei componenti normali, ma possiamo anche definire dei componenti, come si definiscono i componenti? Si possono definire come funzioni o come classi, e questo classi è opaco per due motivi, uno perché le classi non le abbiamo ancora fatte, ma non è il motivo principale, e il motivo principale è che oggigiorno, seppur questo è valido, è corretto in React, oggigiorno, ed è dove noi ci concentreremo per il corso, oggigiorno si usano le funzioni per definire componenti in React. Quindi questo esiste, è l'equivalente di questo a destra, di questo sulle funzioni, ma è ovviamente, è un modo alternativo, ma noi ci concentreremo, useremo sempre questo sulle funzioni. Quindi sappiate che esiste un modo di definire i componenti a classi, che credo, anche se non abbiamo fatto le classi in JavaScript, che faremo, sia abbastanza comprensibile, cosa succede, a livello di classe almeno, ma noi useremo, visto che il trend nel 2021 è il trend attuale di React, è sempre più utilizzare le funzioni, sempre meno le classi, per definire componenti, noi definiremo componenti con le funzioni, e quindi vedremo come farlo unicamente con le funzioni. Quindi questo esiste, ripeto, solo per riferimento vostro, ma noi lo faremo sempre con le funzioni. Per riferimento vostro, perché se cercate magari su Google qualcosa, trovate queste sintassi, ma sappiate che è equivalente a quest'altra di qua. Quindi come si crea un componente? Abbiamo detto che React ha già i componenti di HTML, possiamo crearne nuovi, e come si crea un componente? Si crea come funzione, quindi una funzione qualunque, in questo caso una funzione, un arrow function, senza parametri, e questo, un componente, custom, deve ritornare degli elementi del DOM, oppure altri componenti che poi a loro volta dovranno alla fine della fiera ritornare gli elementi del DOM. Quindi in questo caso questo componente ritorna un elemento del DOM, questo qua di nuovo è GSX, ma che è il GSX nativo, diciamo, è il componente nativo del div, è il componente nativo di H1, è il componente nativo di P, che sono poi immediatamente trasformati da React quando manipolare il DOM nel rispettivo componente HTML, quindi nel div, nell'H1, eccetera. Questo è di nuovo JavaScript, quindi vedete, qui di nuovo usiamo GSX, questo è di nuovo GSX. Quindi questo è un componente che definisce un elemento che è composto da un div aperto e chiuso con un titolo e una descrizione dentro un paragrafo. Quindi tutte le volte che noi andremo a chiamare questo componente è come se scrivessimo queste porzioni di codice tutte le volte. Quindi ecco che noi creando un componente, chiamando questo componente, abbiamo, possiamo replicare lo stesso codice senza però doverlo andare a scrivere tutte le volte senza fare copia e colla, per esempio. In generale possiamo dire, questa non è una distinzione netta, ma diciamo così, una distinzione pratica. ci sono due tipi di componenti. Ci sono i componenti che sono di presentazione e i componenti che sono di container, tipo questo qui è ovviamente un componente di container, questo esterno, e questo qui con blog post o con about sono componenti di presentazione perché hanno un scopo che devono essere mostrati e servono appunto per visualizzare qualcosa. Allora, tipicamente, questa è di nuovo una definizione operativa, i componenti di presentazione generano alla fine i nodi del DOM che devono essere visualizzati, tipo il blog post e non gestiscono lo stato dell'applicazione, quindi non tipicamente possono avere lo stato al loro interno, ma lo cedono al padre che lo contiene, come abbiamo visto, e se hanno uno stato, perché possono averlo, lo gestiscono solo per motivi di presentazione, quindi possono accedere ovviamente allo stato del padre e possono, se ne hanno bisogno per motivi di presentazione, utilizzare anche il loro stato, ma spesso per i componenti di presentazione non c'è neanche bisogno di farlo, basta quello del padre. I componenti container invece cosa fanno? Quindi questi componenti qui, quello che sta fuori da tutto questo, per esempio è un componente container e ovviamente non hanno molto da renderizzare per se stessi, ma creano ovviamente tutti i componenti di presentazione che sono i loro figli, quindi i blog post in quell'esempio e tipicamente hanno due funzioni principali, uno interagiscono con un eventuale back-end. Quindi recupero da un server le informazioni che il server leggerà da un database, i blog post da visualizzare sullo schermo. Li recupera il container dal server, dal database che gli dirà ok, ci sono cinque post del blog con questo titolo, questa descrizione, eccoli. Questo è il container che chiederà al server che a sua volta chiederà al database dammi i post del blog da visualizzare e quindi tipicamente fa questo, può farlo, non è che è obbligato, ma tipicamente lo fa e invece quello che fa quasi sempre se non sempre è gestire lo stato dei loro figli. Per cui nel caso del blog post magari chiede al server dammi i blog post di oggi da visualizzare qui, il server gliele restituisce e lui cosa fa? Passa ai figli i blog post da visualizzare perché sono i figli di presentazione che sanno come visualizzare il post quindi il titolo quanto grosso quanto piccolo se a destra se a sinistra centrato il testo se è tutto se è tagliato i primi cinto caratteri se c'è l'immagine se l'immagine mette alla destra l'immagine mette alla sinistra eccetera sono poi i figli di questo componente container che sanno come che sono il tipo presentational che sanno poi come visualizzare correttamente mostrare quello che deve fare quindi tipicamente di nuovo non è una distinzione stretta è una distinzione operativa abbiamo questi componenti container che gestiscono lo stato e recuperano informazioni e creano i componenti figli che sono quelli di presentazione e poi ci sono i componenti figli che sono quelli che poi vanno effettivamente ad aggiungere parti significative nella pagina visualizzata quindi decidono appunto che c'è un blog post che c'è un'immagine l'immagine dov'è eccetera 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 e sicuramente accedono allo stato del container prendono informazioni dal container e tipicamente non hanno anche se possono uno stato interno da gestire e quando ce l'hanno ce l'hanno solo per motivi di presentazione se servisse due parole su le props e lo stato di nuovo perché le props le incontreremo prima le abbiamo già in realtà incontrate anche se non lo sapevamo in questi esempietti che abbiamo visto le props sono passate a un componente dal suo padre sempre hanno questo flusso che dall'alto va verso il basso possono essere di due tipi possono essere o valori o callback i valori possono essere stringhe possono essere oggetti che è un caso molto comune e che configurano come il componente figlio in questo caso si mostra o si comporta quindi abbiamo le props che da questo componente padre vanno a tutti i figli e dicono per esempio che questo componente la props potrebbe essere il colore del bottone verde e allora questo passa qui e questo qui saprà che può renderizzarsi di verde poi eventualmente la props può continuare a propagarsi ma questo componente non ha bisogno del colore verde quindi la ignorerà però la props si propaga dopodiché dato che le props si propagano in questo modo nel caso in cui ci sia bisogno di una callback per accedere per esempio a metodi del padre quindi questo vuole accedere al metodo di questo per esempio a dei metodi di questo all'onclick di questo che può essere passato tramite una callback allora posso utilizzare posso passare questo onclick dal padre al figlio e quindi che lui possa chiamare eventualmente posso modificare l'onclick di questo ma la propagazione è sempre dall'alto al basso anche se poi l'azione avverrà diciamo in questo modo quindi le props possono essere valori o funzioni colore verde o funzione onclick cosa succede quando clicco su un bottone per esempio quando viene passata viene semplicemente letta è utilizzata se c'è bisogno e se non c'è bisogno non importa viene ignorata viene passata ma si usa come un parametro di una funzione che poi nel corpo della funzione non viene utilizzato oppure può essere tipo funzione che ovviamente può essere propagata ma che conterrà per esempio cosa succede quando faccio click su un bottone e quindi il figlio potrebbe sapere cosa fa se immaginassimo che ci sia un non-click a livello del padre il figlio potrebbe sapere cosa succede quando faccio un click e quindi generare lui il non-click per il padre se servisse perché vengono sempre passate da padre a figlio lo stato lo stato come abbiamo detto è un insieme di variabili e non guardate questa immagine perché ovviamente è quella della slide prima e non ha a che fare con lo stato lo stato è un insieme di variabili che sono come abbiamo detto locali al componente e possono essere passate lo ripeto dal padre al figlio ma non condiviso tra e può essere condiviso tra tutti i figli se è definito a livello più alto e lo stato è inizializzato con un valore di default o inizializzato attraverso i valori che rinno dalla prop come vi dicevo può essere cambiato può essere letto ovviamente senza problemi può essere cambiato solo chiamando alcuni metodi specifici e questi metodi specifici hanno due caratteristiche uno sono asincroni e che li vedremo e due dato che un cambiamento nello stato ed è un cambiamento genereranno un re-rendering dell'intero virtual DOM ogni volta che aggiungiamo qualcosa allo stato e poi come dicevo prima il valore corrente dello stato è passato può essere passato ai figli esattamente come succedono le props quindi dall'alto al basso e questo l'abbiamo già detto ora tutto questo come lo usiamo in pratica come facciamo un'applicazione React e adesso andiamo a farlo prima di tutto ci serve importare la libreria React che a sua volta importerà tutta una serie di librerie noi useremo JSX che richiede questo bubber ma lo fa in automatico dopodiché React e questa è un'altra cosa che fa in automatico genera un server web per visualizzare la pagina un server web stupido che non fa nient'altro che visualizzare React non è attaccato un database non si può neanche modificare ma genera un server web perché ci dà alcuni vantaggi noi finora abbiamo sempre quando lavoravamo in HTML CSS Java scritto facevamo doppio clic sulla pagina HTML lei si apreva nel browser con scritto se ricordate file due punti tre barre quindi non HTTP ma file ora questo file funzionava per quello che dovevo fare andava benissimo è valido ma ha delle limitazioni rispetto a diciamo diciamo il web normale e per esempio due cose che ci aiuta quella prima quella che in questo momento è più importante è che ci permette di utilizzare i moduli ci permette di importare librerie come nel caso di React ora ricordate che voi quando lavoravamo in Node scrivevamo require per esempio djs che installavamo con npm install eccetera qui possiamo continuare a fare npm install e installare djs e quando invece abbiamo fatto in HTML abbiamo dovuto scrivere script nell'HTML eccetera non abbiamo potuto fare questa cosa qui non abbiamo potuto importare djs come lo importavamo in JavaScript ma abbiamo dovuto metterlo nell'HTML ecco questo perché perché usavamo questa modalità file quindi era un file che noi proviamo sul nostro computer e non avevamo un server web che forniva la pagina HTML potevamo averlo ma non l'avevamo perché l'HTML CSS è già sin default non ti generano un server web React che è un pochino più strutturato un pochino più complesso sì e quindi ci permette adesso di rifare se volessimo importare djs ma se volessimo anche importare altro ci permette di rifare l'equivalente di questo quindi non abbiamo più bisogno di scrivere script nell'HTML possiamo ma non abbiamo più bisogno ma possiamo importare direttamente o meglio non abbiamo bisogno di farlo come l'abbiamo fatto l'altra volta ma possiamo importare direttamente il JavaScript da da una libreria come djs nel codice che come facevamo in Node con l'unica differenza che in nel browser non si usa require ma si usa import poi è la stessa cosa è lo stesso concetto ma nel JavaScript la versione standard di questo require è import in Node import non è ancora supportato ma lo sarà a un certo punto e quindi si usa quest'altro modo di importare cose che era require però come prima scrivate require djs adesso potrete scrivere quando siete nel browser import djs e poi praticamente funziona nello stesso modo sono modi di scrivere diversi per importare cose import è quello standard w3c mentre require è quello diciamo non standard che utilizza Node e Node non solo lancia un server web ma ci lancia un server web facendo tutta questa operazione di transpiling e di conversione tra gsx e javascript eccetera e anche addirittura delle funzionalità di ricaricamento per cui il server web che lancia React quando noi modifichiamo qualcosa nella pagina React nel codice lui ci fa in automatico l'aggiornamento della pagina web quindi non dobbiamo modificare per premere refresh nel browser ma ci pensa lui eccetera quindi è una serie di funzionalità che vengono tutte giù installando React come installiamo React allora React si può installare fare tutto a mano ma c'è un comando che si chiama create React app che ci genera un'applicazione React ci sistema tutte le dipendenze ci crea il file package .json praticamente fa npm init crea anche tutta una serie di cartelle e quant'altro poi fa anche pnm install e ci mette e ci mette tutto tutto a posto tutto all'interno di React messaggio in chat io utilizzavo un'estensione live server previsto studio code conviene adesso utilizzare un server nativo che genera React si conviene e in realtà quando tu lanci React parti in automatico il server quindi per dirgli non usare il tuo server usa il mio di Visual Studio Code bisogna andare a modificare le impostazioni di React e quindi per semplicità conviene usare quella di React ma non cancellare l'estensione live perché quando faremo il server dopo React quando lavoreremo un po' sul server ovviamente quell'estensione ti sarà comoda per anche lì quando modifichi il codice del server avere le modifiche subito ricaricate nel server senza bisogno di andare a stopparlo e farlo partire dicevo questo comando create React crea un'applicazione React in una cartella che si chiama come volete voi in questo caso MyApp e fa questo npm init scarica un assieme di robe crea alcune cartelle fa install scarica tutte le dipendenze eccetera e questo è il processo adesso lo facciamo e l'unica cosa da dire anzi prima lo facciamo quindi io ho come l'altra volta aperto una cartella vuota e qui dentro quindi scrivo npx non npm npx e adesso vi dico cosa create cos'è create React App create meno React meno App meno e il nome dell'applicazione chiamiamola FirstApp questo creerà se date invio creerà una cartella all'interno di questa cartella qui all'interno del progetto React intro con che si chiamerà FirstApp con dentro tutto il progetto React se date invio e avete internet attaccato lui inizia a scaricare un pochino quello che faceva npm install inizia a scaricare vedete iniziato a creare una cartella con dentro il package JSON che è il package JSON che avete sempre visto finora un pochino più lungo ma è quello lì quindi adesso sta facendo npm install fa tutto in automatico mentre lui fa fatemi dire che cos'è npx npx noi abbiamo sempre installato le cose con npm che gestiva node package manager gestiva i pacchetti di node quindi li scaricava inizializiava il progetto li installava eccetera npx cosa fa? scarica quello che viene passato dopo in questo caso è un react e non lo installa come dipendenza del progetto ma lo esegue immediatamente dove lo scarica? non lo scarica neanche nel progetto quindi non crea lui non crea una cartella node modules in cui ci sarà create react app ma lo scarica sul computer a livello di sistema operativo in un posto temporaneo e lo esegue una volta che l'ha scaricato questo perché ci sono alcune librerie di node che servono per react per esempio ma non solo che servono per essere utilizzate nel codice quindi per importare come djs quindi che non hanno un componente eseguibile ma servono solo per essere importate nel codice e ci sono altre librerie che sono in realtà applicazioni vere e proprie come quella che potreste fare voi e rendere disponibile e allora a quel punto questo create react app è del secondo tipo non è una libreria che viene importata nel codice per poterlo utilizzare ma è un programma fatto in node quindi in javascript che serve per fare delle cose quindi che serve per essere eseguito quindi non ha senso installarlo come dipendenza di un progetto perché deve essere eseguito non ha del codice da importare non possiamo fare require create react app perché non abbiamo niente da importare da lì ma dobbiamo eseguirlo e questo npx ci permette di eseguire eventuali librerie eventuali pacchetti fatti in questo modo quindi più eseguibili e quello che sta facendo adesso è scaricando circa 270 mega di roba installando circa 270 mega di roba all'interno della cartella first app e a quel punto possiamo entrare nella cartella e premere e scrivere npm start npm start è praticamente rappresenta noi scrivevamo prima node nome del file da eseguire npm start e una scorciatoia per fare quella stessa operazione ed è una scorciatoia vedete lo ha finito in realtà ed è una scorciatoia che è scritta nel file package.json vedete npm start chiama esegue questa linea di codice qui esegue react script start che a sua volta è una serie di script per far partire react da cui server questa parte live perché quando modifico qualcosa subito vedo nel browser il cambiamento eccetera quindi questa è una scorciatoia qui potreste anche avere questa sezione in node e scrivere node nome del file per farlo partire e quindi tutte le volte scrivere npm start è solo una scorciatoia definita qui e poi questo è il package.json che vi aspettate c'è il nome c'è la versione ci sono le dipendenze che si ottengono installando npm install eccetera c'è il node module perché ha ottenuto npm install con dentro tutte le dipendenze le dipendenze delle dipendenze che ci sono come come non a qualunque applicazione node quindi niente di di nuovo quindi a questo punto cosa facciamo facciamo cd first up e facciamo npm start allora quando premete invio npm start se avete il browser chiuso o avete il browser di default come nel mio caso chiuso quello che fa è lanciare un web server per fornire l'applicazione react che adesso è disponibile e apre il browser web apre da solo in teoria il browser web all'indirizzo localhost 3000 quindi se adesso premo invio qui lui parte vedete starting the server ok in questo caso c'è l'applicazione c'è il browser aperto e se non c'è il browser aperto aprevo quello di default c'è il browser aperto vedete scrive da solo localhost 3000 e react quando parte l'applicazione react vuota creata in questo modo è semplicemente questo logo di react che gira con scritto edit src app.js and save to reload quindi se noi andiamo e poi facciamo pausa e apriamo questo e per esempio scrivo qua edited e faccio salva vedete che lui immediatamente aggiorna tutto e mi mostra anche questo edited che ho appena scritto qui fatemi finire questo poi facciamo una pausa prima di completare l'esempio questa cartella che ha creato ha una sua struttura che è standard tutte le volte che ha creato un'applicazione react che al di là dei file che sappiamo come peggy.json come node modules che sappiamo bene cosa sono hanno due cartelle che sono importanti una è public e una src public contiene tutti i file statici quindi file css le immagini e quant'altro src è anche index che è la pagina template da cui deve partire così rispondo anche alla domanda che c'è in chat si può stabilire l'index c'è quella pagina iniziare da partire l'index è index html e quindi si può manipolare se si volesse quella pagina adesso andiamo a aprirla questo index html sarà una pagina vuota principalmente vuota che è quella che viene che tipicamente non è necessario modificare e che automaticamente si ricarica e si ricarica chiedevo perché ho visto che era partito prima app.js se non sbaglio no quello che succede è che parte index e poi app.js va a fare l'inserimento del degli oggetti da manipolare all'interno di index quindi fa quel react.render qualcosa virgola document punto element by d root che abbiamo visto nelle slide prima dentro index html quindi app.js è di default il file javascript che è il punto di partenza per riempire la pagina html quindi in public ci sono le cose pubbliche statiche come appunto le immagini il java il j il 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 css l'html e poi nella cartella src ci sono tutti gli script per cui anche il css se uno volesse in realtà il css si mette in src potrebbe essere anche in public ma si mette in src perché può anche essere manipolato diversamente e vedete react che cosa fa accoppia lasciate perdere il service worker ma accoppia sempre quando volete fare un un nuovo pezzo di in react accoppia sempre un file punto javascript index con un file punto css questo capita per app e questo capita per css quindi src contiene tutti gli script e questo index scusate è l'entry point che va ovviamente quindi index html carica index javascript il quale carica app javascript il quale a sua volta potrebbe caricare altri file che non ci sono ma che potreste creare se volete un'applicazione più modulare e questo index javascript è quello che contiene quella react punto render che abbiamo visto prima che costruisce che mette app il componente app dentro la root di index html e anche index javascript è tipicamente un qualcosa che in react non si modifica mentre il file che si modifica è app punto javascript che è quello da cui si inizia a programmare perché alla fine app punto javascript è quello che visualizza il contenuto in questa pagina questa pagina è localhost 3000 slash index html ma il contenuto che c'è in questa pagina visualizzata in html è tutto quello che c'è in app punto javascript perché dentro index punto javascript se vedete c'è solo questo render di app del componente app e poi c'è un get element di root e questo root è dentro l'index html che ha led e ha un titolo che ovviamente si può cambiare adesso è react app e ha un div che è id root a cui si aggancia a cui index javascript aggancia il contenuto di app punto javascript attraverso quel metodo react punto render che abbiamo visto prima quindi noi lavoreremo sempre in app punto javascript e poi creeremo se vogliamo altri file che importeremo dentro app punto javascript per lavorare per creare altri componenti eccetera 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 qui c'è giusto una scheda per ricordarci per ricordarvi poi vedremo i moduli in una reazione futura come funziona l'import e l'export l'import è essenzialmente quello che noi scrivevamo con require come vi dicevo e poi c'è anche il modo di esportare per cui noi possiamo creare un componente esportarlo e importarlo da app appunto jbs questi sono i vari modi di farlo ma teniamolo solo per riferimento perché lo useremo perché ovviamente importeremo roba da react ed esporteremo magari cose è molto semplice un import un export come potreste vederlo in molti altri linguaggi ma poi vedremo moduli con più calma in futuro dopo react adesso ci interessa giusto importare react e poco altro adesso quello che farei è una pausa di un quarto d'ora e dopo la pausa riprendiamo con un esempio di react partendo dalla struttura che abbiamo appena fatto questo semplice esempio lo facciamo in questo esempio delle slide esattamente in maniera identica e poi proseguiamo nel tempo che ci rimane quindi adesso sono le 10.10 alle 10.25 riprendiamo